Per settimana sport siamo col presidente dell'Aurore di Seste Levante Claudio Meschi. Allora direi un pareggio giusto? Giusto, partita tirata, due squadre che hanno giocato a pallone cercando di vincere. Il risultato diciamo che è giusto. Forse ci avete più provato voi nel secondo tempo? Sì, nel secondo tempo forse loro con i cambi e con un calo fisico ci hanno dato più spazio. Però noi paghiamo le assenze e quindi non riusciamo a segnare. Ti faccio la stessa domanda che ho fatto all'allenatore e a un giocatore del Pra. Dopo la seconda giornata si comincerà a vedere quali squadre avranno la possibilità di salire. Voi pensate di esserci in queste squadre e quali squadre vedi favorite che possono salire? La favorita come da inizio era il Camporosso. Noi ti dico paghiamo le assenze quindi non ci vediamo favoriti però lottiamo fino alla fine, senz'altro. Pensate di recuperare qualche giocatore? Ho visto anche oggi che c'è stato un vostro giocatore che è finito all'ospedale dal secondo minuto per un taglio alla testa. Purtroppo no perché sono tutti infortuni abbastanza gravi e quindi non recuperiamo nessuno. E in più abbiamo la squalifica di Ghigieri, quindi un altro valido giocatore che perdiamo. Ok grazie, in bocca al lupo, ciao.